Fare i puntati su Tamoel con l'annunciata convocazione dell'osservatorio per fine gennaio in data da definirsi ma che sarà indicata nel Consiglio Comunale del prossimo lunedì. Mentre il Comune si riserva di prendere conoscenza degli ultimi documenti relativi alla situazione dell'inquinamento, Legambiente insorge e pretende una risposta che a distanza di un anno non è mai arrivata. La domanda un anno fa interrogava il Comune sulla data in cui sarebbe stata convocata la commissione di valutazione incaricata di decidere come destinare il milione di euro di provisionale incassato dal Comune di Cremona grazie all'iniziativa legale del cittadino Gino Ruggeri contro il colosso libico. La richiesta era anche di poter coinvolgere un esperto indipendente. Entrambe le domande rimaste in evase pretendono una risposta fatta anche di azioni. Era importante avere la commissione al più presto. Noi abbiamo un'idea di un nostro esperto, poi però lo teniamo nascosto per avere naturalmente la disponibilità del Comune per partire. Noi saremmo partiti subito l'anno scorso, da quel punto di vista lì. E quindi ci sembrano le necessità perché dopo quello che è successo e quindi l'iniziativa dei radicali, che è stata veramente importante e utile, i risultati che sono venuti fuori, che praticamente l'inquinamento continua, è chiaro che bisogna dare delle risposte non solo agli iscritti alla società sportiva Bissolati, ma bisogna dare una risposta a tutti i cittadini di Cremona e dare una risposta concreta con dei dati e con una serie di attività che migliorino finalmente la situazione di quell'area lì. Credo che questo stia nella responsabilità molto grave dell'amministrazione comunale, della maggioranza che c'è adesso, dell'ASL e naturalmente anche di ARPA. Cioè tutti e tre voglio dire devono dare delle risposte concrete e non devono nascondersi dietro a nuvole, a nebbia o qualcosa del genere. Devono dare delle risposte concrete ai cittadini e poi fare delle cose.